come stai? la merda grazie però tutto bene vai che devi finire adesso finirai sul sito dei mudi no caro non ti do accesso come no? devo io posso farlo attenzione lo squalo lo squalo c'è un oggetto non identificato l'oggetto non identificato ah era il naso del Kala Kala presentaci music racer va? facciamo l'inquadratura abbiamo quasi finito facciamo l'inquadratura facciamo l'inquadratura allora ragazzi manca poco ragazzi manca poco il nostro progetto quanto manca? intorno al 26 scade? no mancano 14 giorni ma quanto dobbiamo ancora recuperare? ah vabbè circa un 600 euro sembrerebbe ma comunque però ci siamo ci siamo ce la faremo ce la faremo e così dopo potremo finalmente fare il nostro secondo album all right guardate dove siamo al Legend Club che una volta era Legend 54 da un sac di gente da poco saremo on stage 100 moneta 100 moneta c'è pieno di moneta c'è moneta è perché siamo andati a suonare in Duomo prima con Nino Maggioni in piazza gira bene This is crazy, diventa Razier anche tu dai uno